Del vecchio piano triennale delle opere pubbliche, questa mattina in conferenza stampa avete illustrato quelli che saranno i lavori per il prossimo triennio. È un piano triennale contenuto poiché le risorse a disposizione sono molto esigue, d'altronde la situazione finanziaria induce anche a questo ormai da un po' di tempo a questa parte, non abbiamo più l'apporto della risorsa mutua e quindi tutto ciò che possiamo fare riguarda quelle risorse che riusciamo a reinvenire all'interno del bilancio comunale. Oggi ci investiamo tutto, 3 milioni e mezzo di euro che speriamo restino tale fino alla fine e ci consentiranno di reassicurare serenità e togliere criticità al territorio cittadino. In più interveniamo ancora per eliminare il residuo di qualche frana e soprattutto l'antiallagamento, un intervento nuovo, quello non previsto nelle precedenti annualità che riguarda la zona di San Donato e che quindi ci consentirà dopo gli interventi che faremo già nel corso di quest'anno di eliminare quasi completamente il problema degli allagamenti. A proposito di grandi opere vogliamo fare qualche nome? E' quello che c'è sempre stato nel corso di questi anni, area di risulta, ex cofa, parco fluviale e quant'altro. Si tratta però di renderli coerenti del piano regolatore generale, cosa che non è mai avvenuto nel corso di questi anni e allora per questo li abbiamo inseriti nell'annualità 2017 perché riteniamo oggi di svolgere un'attività di consapevolezza di ciò che deve essere lì realizzato e poi attivare le procedure di variante per renderle coerenti col piano regolatore e da quel momento in poi si dispiegano anche quelle che sono le ricerche per una finanza diversa da quella pubblica che non è in grado di sopportare un esborso di questo genere.